Ciao a tutti ragazzi, qui è un nuovo video, come potete vedere siamo in finale, mettiamo voi cercare un avversario, in finale, stai ripetendo mio fratello, gioco io, gioco io, gioco io, gioco io, gioco, vado sempre, è contro Pino Piragna, ragazzi, a me non mi piace come giocatore, Pino Piragna, Desi, ragazzi, molto, veramente, molto forte, molto forte, vediamo se ci aggiungiamo alla finale, spero di battere io, diamo, batte lui, è un gigante, là, là, oh, ammazza, va bene, va bene, è forte, là, butta la mano, mi mi spetta, Ragazzi, è forte, questo Matteo, guarda, guarda, ti devi mettere più avanti, vabbè, forse, o vince lui, dà, se non è molto a break, vai, sai break, si, vedi, ti devi mettere più avanti, ragazzi, il consiglio di mio fratello, È molto utile, però io ho perso bene, cioè perderò a stare male, vabbè, adesso batte lui, guarda, ragazzi, beh, questa partita secondo me, cioè la può vincere, però con difficoltà, Vabbè, questo ti ha fattuto, è forte, questo è forte, è forte, comunque, fuori, fuori, giusto, 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 per fortuna hai fatto un punto, Vediamo male, ragazzi, eh, raga, un po' sì, speriamo, ragazzi, vai, vai, non la pigli, eh, raga, un punto per loro, Eh, non ce l'ho, basta, punto, alla battuta, dai, 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 forse, punto, incrocia, capresa, No, raga, ha vinto lui, era bello forte, comunque, vabbè, era C, meno, come...